Sì, sto cercando chi l'ha ammazzato. Io e tuo padre eravamo amici. L'hanno ucciso davanti alla casa di una con cui aveva una storia. Purtroppo, quando sono arrivato, era già morto. Però sappiamo chi dietro il portine. Si chiama Alfredo Satti. Dove lo trovo? Qui a Roma. È il direttore dell'Eco della Libertà. Ma tu vaici piano. Per noi questi sono tempi brutti. Non c'è entrato in niente. È una questione personale.